Hola, io sono Marco Scrono e signore e signori bentornati a una nuova puntata della Tekken Beacraft 4 Season 4 Ma che bel castello parcontino di rodello Che cazzo faccio nella 5? Nell'ultima puntata abbiamo fatto il mini distruttore di mondi Come potete vedere sta funzionando molto benissimo E' super carino, ci piace un sacco E va a scavare alla velocità della luce Bellissimo, non ho capito ancora perché Ogni tanto gli esibia Forse se becca l'ossidiana Ci mettete più, ci mettete meno Non lo so, tu che sei? Dance Redstone Whore Vediamo, vediamo Sì, ma perché, perché? Perché? Vabbè, lo Lo, 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 lo Temporizzeremo in maniera ideale Successivamente Vediamo un po' 11 secondi Vabbè, senti, ti metto 15 Oddio, la guia è sparita Ti metto 15, così Non ce dovresti avere il problema Vai, scava Scava, fusi l'anime Scava Scava, detto Devi scava Vediamo se sta scavando Sta scavando Ragazzi Sta scavando Ha scavato Ha scavato Sì, ha scavato Ragazzi, ha scavato Vediamo se scava Non so che dialetto sia questo Eeeh Oh, ma è perfetto Uno Due Due secondi di meno Va bene Ehm Come avevo detto però Non voglio fare soltanto il Il distruttore di mondi Voglio fare il distruttore di mondi E il tunnel board Quindi andiamo E ci trasferiamo Nel deep dark Però prima passiamo un attimo A casetta nuova Uh, l'ho lasciato acceso Vabbè Fa niente Me lo scordo No, no, no Me lo scordo C'ho un coso che mi gira Nell'overworld È pericoloso È davvero pericoloso Conoscendomi, eh Un Wither Perché c'è un Wither? Perché mi si è attivata la farm di Wither? Scusate, eh Netherstar Una What? Ce n'ho miliardi Perché? 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 Ah Dove sono finite? Ah Tutte le mie nether star Ah Nether Una sola Oh mio dio Vuoi vedere che? Forse ho troppo Ho aggiunto troppi Pericolo Pericolissimo Porca pupazza Porca pupazza Si è attivato questo Si, si, si Si è attivato Si è attivato Cazzo merda Cazzo merda Si è attivato Perché ho aggiunto Troppi laser drill E non gliela fa Non morire Marcus Cron No, no Non morire No, non morire Grazie Ok, allora Il problema qual è? È che mi sono lasciato un po' dare Tempa dietro E ho aggiunto altri laser drill Perché volevo altri diamanti No? Ne ho aggiunti un po' E quindi È finita l'energia Ok, questo ci Questo è buono Per fare Reattorone nucleare Mega galattico Super non plus ultra La 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 Però lo sapete perché ho finita l'energia? In realtà non è che ci servirebbe proprio Cioè, sì, lo facciamo Non vi preoccupate Dopo aver finito tutta questa serie di puntate Ma lo facciamo Il problema Prima di fare la batteria ovviamente Il problema è che io ogni puntata dovrei mettere un solar panel a fando Solar panels Via Eccolo qua Ultimate solar panels Brandiburgo Party Vai alla grande Sei proprio buffo quando sei in mutande Tra l'altro devo ancora leggere quella cosa E infatti qui vediamo che c'era un in Di 489 mila Cioè io faccio mezzo milione così a buffo di cazzo Va bene, sono contento Vedete quello? Quello è il simbolo che sta funzionando quella riserva E devo dire che funziona alla stragrande Per chi non lo sapesse Quando questa batteria scende sotto al 60% se non sbaglio Si attiva una richiesta di nether star Che vanno dentro al nether star generator E ci danno un più 140 Quando finisco la nether star Parte la farm di Wither Regà ma quanto cazzo è figa Cioè seriamente Seriamente Voi Lo so che gli americani sono più forti Sono più belli eccetera eccetera Cioè direwolf che fa i pippa i cammelli Eccetera eccetera Ma quanto cazzo è figa sta roba Sbram Cioè È fighissima se ci pensate Nether star Vedete? Non ci sono nether star Quindi la farm di Wither funziona Volete vedere quanta soul send ho? 26k Volete vedere quante teste di Wither ho? 19k Cioè ce ne stanno di Wither da morire qui Ce ne stanno Ce ne stanno Ok Andate Fatemi fermare Ciccino che è qua Guarda che cazzo sta fa Oh mio dio Perché qua si è fermato? Non è ciancato Aha Non è ciancato Giusto ci dobbiamo mettere un chunk loader Comunque Prima di andare a fare il nostro Brrrr Ragbar Io chiuderebbe qui E chiuderebbe qua Andiamo a casetta nuova Che adesso non ha più il problema dell'energia Speriamo E andiamo a vedere che Laggino Che qui ha fatto tutte cose Tant'è che l'ho spento E guardate qui È pieno di Resonant Ender Pearl Ora Resonant Ender Ora Resonant Tu nonna Io vorrei vedere Se posso Oh mio dio Che cosa diavolo è questo rumore Se posso Se posso Se posso ritrasformare Vabbè ma la butto Ma che c'è frega Ma che c'è importa A me un void Per favore Ma perché la tengo La tengo sculata Eh raga Come mais E Io direi Di iniziare 4 milioni e 500 di ferro 4 milioni Senza mod del cazzo Solo mod dell'infinity Eh beh Eh beh Eh Drum Drum Facciamo un crafting Del drumone Eccolo qua E ziori e zingiori Possiamo dire Di aver completato questa quest Ci andiamo a mettere Il void Qui Così me lo Ciuscia Tutto quanto Stai ciusciando Eh me lo stai ciusciando Cazzo se sei lento Amico mio Sei davvero lento Ma noi intanto qui Sapete che vi dico Non ci mettiamo I blocchi Cioè il forrone Ci mettiamo i blocchi di ferro Così facciamo prima Vediamo un po' Se l'iron block Ce l'ho In In autocraft No È block of iron Block Iron Of Of Iron Oh come si chiama Block of iron Non ce l'ho in autocrafting Allala Che bab Dunque lo facciamo subito Patapim Facciamo terminal dove l'interface eccolo molecula ce lo buttiamo dentrissimo uno spazio bello grazie e poi andiamo a prendere la card che craft le cuse quindi andiamo a mettere qua sotto e gli diciamo amico bello devi craftare i blocchi di iron ce li devi mettere dentro casto mi è vero sta che in realtà once sport vediamo un po se stanno arrivando non stanno arrivando vediamo un po se stanno arrivando se faccio oligraft idem sull'export dovrebbero arrivare e sono arrivati i signori sono arrivati noi aspettiamo perché se mi dimentico a butto tutto il ferro che ci abbiamo dentro al void prendiamo il nostro bedrockium vuoto prendiamo il nostro bedrockium pieno eccolo qui possiamo rimuovere ciccio pelato mettiamo il bedrockium drum e signore e signori intanto abbiamo acquisito un bedrockium di un molten che non è proprio un molten però va bene e in più eccolo qua abbi stiamo facendo il bedrockium cioè il drum di bedrockium di ferrone yes ok possiamo andare lesti lesti nel nostro bellissimo deep dark dove marcus cron ha fatto di nuovo il mini frame motor però l'ho ottimizzato risparmiato un posto perché sono un un pusillanime un genovese non lo sono una delle due quindi ciccio funziona alla stragrange guardate come è possibile tutto questo è perché questi qui sono attaccati da questi qui allora noi vogliamo una cosa questo qui è il cazzo si è attaccato aspettate che faccio un attivo un piccolo piccolissimo buco eh botto 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 bene benissimo visto che ci sto stavo pensando che questa torcina qua io potrei metterla qui chissà se se funziona lo stesso vediamo un poco sta funzionando ragazzi sta funzionando nessun problema molto bene molto bene molto bene dicevo perché toccano qua i lati qua sotto li ho sbrenciati in questa maniera in modo che estruscino su questo blocco e non rompano le bolle allora qui ho portato un pochino di cose questa la togliamo perché staglietti biripi biripi e ovviamente io ho preso tutto quello che poteva secondo me essermi utile ma torno a ripetervi non ho idea di come possa fare questa cosa ho delle vaghe riminescenze della vecchia red power e quindi posso arrivare a arrivarci arrivare ad arrivarci va bene ovviamente utilizziamo gli anichilation plane a una cosa che però mi sono assolutamente informato è che se faccio così vediamo un bug posso ottenere questi qua se faccio così si affinano ancora di più così si affinano ancora di più e se li metto circolarmente guardate un po' ci da la low frame block block cover che è una un oggetto che ha la stessa funzionalità di questo ma ti fa passare il cavo perché è bucato guardate vedete ok non ho un cavo altrimenti lo facciamo vedere ok vediamo un po' se è vero corcazzo però forse perché non attacca vediamo un po' se faccio così e così perfetto perfetto è quello che volevo rompiti anche non si romperà è invincibile stavo con no stavo con l'uno punto ok ok va bene va bene va bene allora io voglio 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 mandare energia anche a ciccio quindi 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 mi serve questo qui non posso toccarlo se non sbaglio si posso posso perché no why not marcus cron quindi dovrei mettere una energy adapter qui a sector scusatemi che riceve energia e che va a dare energia a dei controller controllers che appoggiamo qui qua 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 qui 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 perfetto si accendono meraviglioso allora dicevamo io voglio far passare i cavi quindi vediamo un poco se ce la fa se ce la fa è fantastico si cazzo si cazzo è meraviglioso signori ci sono riuscito dovevo fare questa cosina qua praticamente io mi ero il caponito di farlo due per lungo invece dovevo aggiungere questo lato in modo tale che questi frame si facessero passare i tubi ma comunque questi tubi qui che era questo il mio problema cioè non andava avanti toccassero almeno un frame di qua quindi questi frame fanno passare i tubi aspetta perché qua ci sono i yellow frame e i frame della funky locomotion questo ci permette di non farli incrociare questo qui invece li incolla ok e questo li incolla anche questi qua io ci avevo provato senza questi e non è venuto un cazzo di niente ma adesso funziona dunque 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 noi andiamo a mettere gli annihilation plane e vediamo se la cosa da funzia e ovviamente questi sono smart cable portano 8 canali significa io lo posso fare 8 per 8 cioè scusatemi 8 8 qua 8 io potrei mettere altri 4 controller potrei fare un cosone gigantesco ma adesso stiamo facendo tutto piccino picciono non vi preoccupate oppela 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 allora la domanda è me lo sposti si si dannazione me lo sposta me lo sposta me lo sposta vediamo come si comporta mamma mia che paura mamma mia non fa un cazzo perché il device online però lui non ha non vede ovviamente un cacchio di inventario ora io dell'upload non mi ricordo come funziona la cosa io posso tirare fuori dal controller senza farcelo passare attraverso nel senso mi spiego meglio se io prendo una chest letteralmente cioè io la faccio esplodere forse avrei dovuto vedere se magari dentro c'avevo una chest qui dope e forse ce l'avevo qua e no ok allora cerchiamo una chest eccola qua speriamo di non perdere tutta sta robaccia facciamo così e così ho preso troppa roba regà troppa troppissima roba buttiamo un po di cobblestone buttiamo questo che non ci serve più il controller oddio potrebbe servirvi questo qui guardate le enderperle che arriva e vabbè questa roba la prendiamo thank you you have a machine stavo dicendo se io gli metto una chest una chest dove cazzo lo faccio passare perché se tocca lì biribibibibara bababu uh uh qui tocca con questo quindi io posso fare così la chest tocca con questo forse ci riusciamo forse ci riusciamo il tempo di tornare a casa non so quanto stia durando questa puntata e prendere un import base allora io devo scoprire perché questa cosa non la so davvero import eccolo qua ma get import non lo so get import niente lascio perdere io devo scoprire se l'appled solo col controller prende e butta dentro ok se lo fa è una svolta altrimenti dobbiamo creare una piccola appled su questa piattaforma che non dovrebbe essere un problema però è una rottura di cazzo allora vediamo un po' questo sembra funzionare i blocchi comunque non li rompe perché non li rompi o tu blocco oh my gosh oh my gosh perché non li rompi perchè aspetta un attimino magari ci metto uno storage un interface forse cioè non lo so sto andando nel brancolo nel buio sinceramente però tentativi ed errori si fanno un sacco di cose interface una persona una volta mi disse che a tentativi ed errori non si risolvono i grandi problemi della vita io ho detto ma io non faccio non devo risolvere i grandi problemi della vita questo qui è l'interface in alternativa prendiamo uno storage bus e andiamo a spizzarci la situation dov'è? eccolo qua deep dark comunque manca poco eh al massimo mi ci metto a ristudiarmelo in creativa allora con questo non funzioni e abbiamo capito l'interface tecnicamente dovrebbe essere manda e metti giusto? quindi se io metto l'interface non mi si apre la cesta giustamente io che gli posso dire blocking mode blocco oppure interface show nope l'ultimo tentativo con lo storage e poi mi sa che mi tocca fa l'impiantino dell'appliad dov'è lo storage eccolo qua lo storage bus vediamo un po' ma dai ma dai ma dai ma dai ma dai wow signori 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 dovrebbe andando tutte cose ora però qui si attacca ora che ci penso quindi devo tirarla su devo tirarla su altrimenti si attacca ciccio pelato papapapam già 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 qui devo tirarla su ci metto un pochettino non serve rega non serve il controller non si attacca spizzatevelo è uno spettacolo addio tunnelbore addio entra ok è spettacolare ragazzi è meraviglioso guarda come va adesso la cesta si riempirà e esploderà tutto quanto io lo so io lo so fermati ordunque ok l'abbiamo fermata allora io controllo quanto ci manca perché magari vi faccio vedere la versione più wow ricordate quando ho detto che prima o poi facevo i danni con Stasha eccoli ragazzi beh io la devo mettere mi devo mettere a ricostruire la faremo più grande fino alla sua massima espressione quindi io vi salustro abbiamo fatto il mini tunnelbore abbiamo fatto il mini distruttore dei mondi nella prossima puntata li combiniamo insieme e tipo avremo distrutto ma che dico distrutto ci studiamo tutto il diptar che io sono Varcus Kron e questa è la Techambicraft bella per voi oh beh al diavolo l'ho fatto 3x16 è bellissimo vai mio piccolo braccio vai guardate che spettacolo raga quando nella prossima puntata lo trovate gigante quindi pollicione in su bella raga